Ah, finalmente siamo arrivati. Ah, ma che bello rivedere l'altra casa di umani. E non hai ancora visto l'altra? Mi era mancata così tanto, soprattutto quelle creature che non ho ancora capito cosa sono. Intendi le galline? No, non avevo mai capito. Cioè, non è male, è la prima volta che vengo qui. Invece, no. Però anch'io non sono venuta tantissime volte qua. Pochissime cose me le ricordavo, per il tempo e per le volte. E già, come sono stati questi mesi là? Beh, all'inizio mi annoiamo perché non conoscevo niente e nessuno e mi mancavate. Poi iniziavo a divertirmi e a conoscere la gente, ma poi mi mancavate troppo. Insomma, mi sono divertita, poi sì e di nuovo no. Mi siete mancati, un po' di meno e di nuovo sì. Soprattutto tu. E comunque, Fragolina, penso i tuoi figli ormai siano nati. Cioè, quando te ne eri andata avevi la pancia. Cioè, io non ho ancora mai visti nascere. Oh, sì, ora hanno qualche mese. Fantastico, ma dove sono? Sono nati a fare una cosa con il loro padrino. Un amico cane che c'era qua. Ah, sì. Lo vedevo girovagare qua, certe volte per la casa, ma non era ancora nostro amico. Proprio l'ho sentito. Già. E come vanno le cose con un scuretor? No, abbiamo visto la sua vera identità. Come? Beh, non era una falsa, non era un aspetto falso. Abbiamo cancellato la memoria e poi li abbiamo visti. Che ragazzo è invisibile? Ragazzo è invisibile, eh? Francesca me ne aveva parlato, ma non l'ho mai visto. Nella prima volta, né questa. Beh, ma era cattivo, quindi non ci tengo a vederla. Comunque, sapete dove sono finiti? Cioè, non lo voglio sapere, ma solo così non abbiamo la più palide idea. Da quando abbiamo fatto quello, poi, cioè, se ne sono accorti, no. E niente, neanche Celisia non lo sa. Perché proprio Celisia dovrebbe saperlo? Beh, se no, capisco. Lei prima era al loro servizio, era cattiva. Cosa? Lo ero. Sì, potresti, ehm, le galline hanno famiglia. Diresti un po' di, dare un po' di cibo. Intanto parlo di una cosa che tu non potresti mai sapere. E un ricordo fra noi, prima che tu arrivassi. Ma allora neanche lui non lo sa. E beh, allora va, andate insieme. Tranquilla, non succederà niente. Già, va bene, mi fido di te. Certo. Ma basta, che schifo. Noi siamo innamorati. Ok, c'è. Ma come facete a sapere con certezza che Celisia non è cattiva? Mi avete detto, cioè... Cioè, vi avete detto che vi è già imbrugliato una volta? Come avete fatto a ricrederci? Già da quando sono arrivato mi ha fatto un sorrisetto. Non mi sembra tanto brava. Fragolina, dai. Le persone non vanno scelte così perché... Io ho detto, sono bravo, quindi... Fì, 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 da... Beh, non... Beh, ma ormai è una amica da noi da più di due settimane. È ovvio che è brava. Cioè, la conoscete... Dopo pochi giorni... Dovete fargli una prova del nove per vedere se è veramente brava. Oh, è solo servizio di Scurator. Perché non voleva dirmi che era cattiva? Infatti, ovviamente ci pesta molto su questo e non ho mai capito il perché. Te l'ho appena detto io il perché. Beh, che prova facciamo? Cioè, poi quando torna non dite lì niente. Che avevi detto questo? Comunque, aspettiamo che torna e farò io la prova. Eccoci, golline sfamate. Cosa avete parlato? Ma niente, mi hanno detto delle cose che sono successe in questi cinque mesi. Comunque, guardate che acrobazione ho imparato in questi mesi. La la la, la la la, la la la. Aia, che dolore! Mi sono incastratata i capelli. Aiutatemi, aiutatemi. Ci penso io. No, aspetta, la prova del nove. Ah, giusto. Silicia, vado ad aiutarla. Ma perché proprio io? Perché sei la più vicina e la più brava. Ma è anche la più vicina. Non importa, va a salvarla. Già. Non capisco perché proprio io, ma va bene, ci andrò. Brava, siamo tutti fierissimi di te. Va bene. Non funzionate? C'è proprio cascata. Però la salvana non mi sembra cattiva. Aspetta, eh. Ricordi, i cattivi non sono affatto male a ingannare le persone. Ah, hai ragione, aspettiamo. Bravissima. Grazie mille. I capelli mi stavano facendo super male. Ma tu non hai i poteri? No. Oh, beh, allora di nulla. Sei supereroica. Ma... Ma vi sentite bene? Non ho fatto niente di che, ho solo salvato un'amica. Beh, ma questo non è roba da poco. Posteriorite voi. Prima testa è superato, ma questo è perché c'erano tutti. Vorrei vedere da sola. Qualcun'altro si dovrà mettere in pericolo. Qualcuno che non è molto atletico. Perché guardate me? Scusa, ma... Beh, adesso noi andiamo a giocare. Perché tu e Nadia non fate cose che vi piacciono? D'accordo. Andiamo a Nadia. Questa me la pagherete. Non ve la faccio pagare adesso solo perché... Trovo una cosa giusta. Tante che... Vabbè, lascio a stare stare. Non riesci ad ammettere la verità. Non riesci ad ammettere la no. Acrobazia fantastica. Perché adesso non scendi e lo faccio io. Va bene. Ora devo entrare in azione. Ok, ok. Continua a salire così. Bene, bravo. In questo momento farò vedere la mano perché non so come farla muovere diversamente. Cosa c'è? No, che ho toccato quelle piante e mi stanno facendo un po' grattare. Ti toccai? Mi fanno molto grattare. Non riesco. Beh, ora faccio vedere. Comunque vedremo le mani. Sta cadendo da molto in alto. Sei graffiata? Ha battuto contro quello. Insomma, ha fatto tantissime cose terribili. Sta cadendo. Non la prenderò mai al volo. Cosa faccio? Cosa faccio? Beh, ancora molto in alto. Dovrei avere del tempo. Vado a chiamare le altre. Continua. Terurirururu. Ditemi nei commenti se secondo voi ne idea saggio andare a chiamare gli altri. E... Niente... Abbonatevi, iscrivetevi per essere sempre giornati sui nostri nuovi episodi e... Devo andare... Aloha! È stata una buona idea metterla alla prova Comunque Aiuto Se non mi salverà Aspetta ma io posso volare Però vabbè mi deve salvare Allora